Ciao e bentornati al canale! Bentornati carissimi amici siamo giunti, cioè finalmente partiamo allora, siamo andati a riportare le figurine doppie ci hanno dato, queste sono quelle doppie, l'unico pacchetto che abbiamo ottenuto ci hanno dato dei pacchetti e abbiamo cominciato a aprirli questa l'ho trovata io super cangiante, ne abbiamo aperti solo due questa l'hai trovata tu, questa pure tu quindi finalmente riusciamo a cominciare la collezione ora ci mancano ad aprire gli altri sei pacchetti dei famosi doppi io aperto lei, mi pare e lui aperto io adesso poi le attaccheremo man mano e vi facciamo vedere i progressi dell'album e quindi vai, dovrebbe andare bene stavolta speriamo sì sì va bene va bene abbiamo superato questo scoglio se è lunga, se hai anche interessato abbiamo scritto per più che altro per sapere se c'era qualche problema e per segnalargli eventuali altri disagi nel senso controllate magari qualcun altro papi, questa è una delle mitiche di queste e quindi ci hanno risposto, sono stati gentilissimi se non avessero come dire risolto il problema in filiale ci avrebbero pensato loro ma abbiamo risolto tutto è andato tutto bene, è stato un inizio un po' scoppiettante ecco qui, era come brilla questa palla canestro non avrei mai pensato un inizio di questo tipo però c'è stato anche questo e va bene così adesso partiamo bene voi a che punto siete con la collezione? immagino molto avanti rispetto a noi che siamo partiti con un po' di calma visto gli eventi passati abbiamo fatto anche un sacco di video qui siamo sul Judo Fognini col tennis uh guarda che bella questa questa è solo metallizzata quella è l'altra parte di una che ci manca i focconi della... questa invece è un'altra parte così che formiamo un altro pacchetto no basta ahiaiaia sembrava, assomigliava un po' al pacchetto storico invece non è quello adesso abbiamo la paura fissata apri anche quest'ultima intanto vi ricordiamo che vi danno una bustina ogni 15 euro di spesa o 50 punti fragola si sommano 50, 100, 150 punti fragola che dura fino ai primi di agosto per tutto il periodo delle olimpiadi e quindi iscrivetevi al canale condividete i video mettete un like lasciate la campanella per essere aggiornati commentate vediamo l'ultima e noi chiudiamo proprio con una speciale wow e come sempre noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao ciao